Dove ho dormito? Zeus. Allora io ti avviso che non c'è niente da mangiare, ma proprio niente, niente, niente. Assolutamente niente. Quindi poi dovrò andare a comprarti qualcosa da mangiare, a parte che non mangi. Comunque, magari adesso hai fame e non c'è niente. Beh, ho dormito qui? Qui vicino a Pippi.